Allora è pronta signorina? Sì maestro Correga la posizione dell'archetto Bene così Fa La Mi Re Mi Fa Attenzione al Mi Mi scusi Sol Si Fa Son La Si La Si Do La Fa Che Cosa Mi Sta Succedendo Una Tenerezza Che Io Non Ho Provato Mai Lo So Che Mi Sto Innamorando Ma Non Ho Il Coraggio Di Confessarlo Neanche A Me Innamorato Di Te Ed Ho Trent'Anni Di Più Tu Perché Guardi Me Hai Capito Già Io Vorrei Dirti Che Forse Tu Lo Sai Forse Tu Lo Sai Un Bene Segreto E Profondo Una Cosa Dolce Che Io Nascondo Dentro Me L'Amore L'Amore Più Grande Del Monto Nato Troppo Tardi Ormai Per Un Uomo Come Me Sei Innamorato Di Te E Do Trent'Anni Di Più Bene Allora Ci Vediamo Dopodomani Signorina No Maestro Giovedì Allora No Maestro Non Verrò Più E Perché Ha Deciso Di Non Continuare A Studiare No Maestro Ma Perché Allora Perché Sono Innamorata Di Lei No Maestro No Maestro No Maestro No Maestro Grazie a tutti